Mi chiede se è proprio un bugiardo, quello che dici non è assolutamente vero e con questa pesante accusa ragazzi oggi sono qui a dovervi recensire con qualche giorno di anticipo purtroppo rispetto alla tabella di marcia un interessantissimo prodotto venduto ad un prezzo così basso, così incredibile che mi danno anche del bugiardo, ma tu guarda un po' cosa mi tocca fare. E sto parlando proprio di lui, Lace Magic S1, un mini pc con tanto di mini display personalizzabile integrato. Bello, vero? Sì, ma ora vi dico subito quanto costa in modo da evitare qualsiasi altro tipo di fraintendimento come quello di inizio video, in quanto pochi giorni fa avevo già spoilerato Lace Magic S1 in questo shorts dicendovi che il suo prezzo è di poco superiore ai 200 euro, ma il problema è che andandolo a cercare sul sito ufficiale il suo prezzo di listino è di 500 euro, quindi sono un bugiardo? Beh assolutamente no, non vi dico bugie ma essendo io un influencer, un recensore affiliato a diversi store riesco a ottenere dai produttori in questo caso dei coupon molto molto importanti, delle offerte che portano Lace Magic S1 in questo caso specifico da 500 euro a 250 euro, 240 e a volte anche meno di 200 euro. Queste offerte ragazzi io ve lo dico in ogni video e lo continuerò a ripetere in quanto è il mio canale principale in cui segnalarvi questi coupon che ricevo ogni giorno dalle aziende. Ecco segnalo tutte queste super offerte, coupon e tanto altro nel mio canale Telegram ufficiale Tech Best Deals a cui potete accedere gratuitamente, ci sono già oltre 30.000 utenti tra voi che ogni giorno fanno ottimi affari, per non dire grandissimi affari sul mio canale Telegram, semplicemente aprendo la descrizione del video qui sotto e cliccando sul primo link per entrare nel mio canale Telegram Tech Best Deals. Una volta entrati, cercate il nome di questo mini PC o di qualsiasi altro prodotto vi interessi e lo troverete al suo prezzo più basso, con tanto di storico e di prezzi in modo che non possiate dirmi che sono un bugiardo. Quindi non avete più scuse, entrate subito nel mio canale Telegram Tech Best Deals e iniziate a risparmiare un sacco di soldi. Ora però spegniamolo e andiamolo a scoprire più da vicino. In quanto l'Ace Magic S1 ha diverse frecce al suo arco, oltre al bellissimo oggettivamente display personalizzabile frontale. Innanzitutto, lato connettività, troviamo due porte HDMI 2.0, possiamo collegare due monitor esterni senza problemi, anche in risoluzione 4K, due porte Ethernet, AUX e sulla parte superiore quattro porte USB-A. Purtroppo, primo aspetto negativo, non c'è una porta USB-C. Dovemo usare, per forza di cose, un adattatore su queste porte. Lato memoria però è davvero tanta roba. Infatti sia la RAM che l'SSD sono veloci e sono ampliabili o sostituibili. E infatti questo non è un blocco di alluminio unico saldato con qualche vita strana, come succede su molti altri mini PC anche di altre aziende più blasonate, ma abbiamo un semplice sportellino magnetico che si rimuove in un attimo e ci dà pieno accesso sia alla RAM sia all'SSD. Lui è ampliabile fino ai 4TB su un doppio slot. Davvero niente male. E anche questa base è magnetica. Andiamolo ora ad accendere per scoprire i suoi tempi di accensione. Tra l'altro molto bella anche questa striscia LED RGB personalizzabile anche lei. Sul display integrato personalizzabile vi faccio vedere tra un attimo come troviamo diverse informazioni utili come il wattaggio del processore arriva fino ai 15 Watt, quindi è anche molto parco di consumi economico sotto questo aspetto. la temperatura della CPU, il carico del processore, la velocità dell'eventore è super silenzioso, fa pochissimo rumore e anche la memoria utilizzata, in questo caso 22%. L'SSD in dotazione ragazzi è da 512 GB, in questo caso 475 GB utilizzabili perché un po' sono dedicati al file system, driver, file di recupero eccetera eccetera. Troviamo preinstallato Windows 11, una versione pulitissima, fortunatamente andremo a configurarla noi da zero, non come succede su altri mini PC dove ce lo troviamo già attivo e non va assolutamente bene quando succede. Come programmi comunque predefiniti abbiamo due software dedicati al controllo del mini PC, ovvero questo semplice programmino che ci permette di scegliere un tema predefinito per il mini display integrato e anche ruotarlo in orizzontale in caso volessimo posizionare il mini PC orizzontalmente sulla nostra scrivania e inoltre possiamo anche personalizzarlo manualmente scegliendo noi quali impostazioni, quali statistiche, metri andare a visualizzare sul display. Possiamo anche importare delle nostre foto e creare quindi una galleria personalizzata, davvero una figata. Eccolo qui. Ora vi mostro un po' la fluidità di questo mini PC. Iniziamo con Chrome, andiamo un po' su YouTube e proviamo a riprodurre dal mio canale un video 4K. Vediamo se riesce a reggerlo. Ovviamente c'è la pubblicità che non può mai mancare e come vedete riusciamo a muoverci nel video e visualizzarlo senza nessunissimo tipo di problema. Comunque il sistema operativo resta davvero molto molto fluido anche con diverse tab, schede aperte. Ovviamente non è una macchina da gaming spinto, anche se qualche giochino lo regge senza particolare sforzo, però per un uso office, lavoro eccetera eccetera, è davvero ottimo. Io utilizzo OpenOffice, come vedete l'apertura è molto molto rapida, anche la versione Excel. Come avrete notato ragazzi qui ho anche una stampante 3D che utilizzo collegata a questo mini PC con il suo software dedicato che mi permette di andare a importare dei modelli 3D, muoverli, personalizzarli e mandarli in pappa alla stampante davvero senza nessun tipo di problema. Peccato che non ci siano delle porte USB-C su questo mini PC, anche se le porte USB-A che ci sono, come vedete, sono molto rapide, con un hard disk normale arriviamo quasi a 100 MB al secondo. Ho appena importato un video 4K abbastanza pesante che utilizzo solitamente per testare i proiettori 4K appunto e riusciamo a riprodurlo senza nessun tipo di problema. E ne approfitto anche per andare ad aprire Adobe Premiere. Su questo PC ho installato una versione un po' più vecchia, in quanto non mi interessa avere effetti particolari che penso non riuscirebbe a reggere, ma per un editing molto leggero senza effettistica pesante. vi sto facendo vedere tutto in tempi 1 a 1, senza fare tagli, senza velocizzare nulla. Ho fatto già un test poco fa. Importiamo un altro video 4K e vediamo come si comporta. produciamo anteprima 1 su 2, quindi metà della qualità massima. Ovviamente la qualità video dipende completamente dal pannello che sto utilizzando, un pannello puramente da gaming, comunque vedete, riusciamo a tagliare, fare un po' di taglio e cucito e anche qualche transizione molto molto basica. Come vi dicevo, questa non è una macchina da gaming, però, 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 per giocare a qualche strategico gioco non molto impegnativo, vi sfido a riconoscere questo gioco che per me ha segnato la mia infanzia. Si riesce a giocare molto molto bene, ovviamente abbinandogli un bel monitor. E in caso non lo conosciate, vi consiglio anche questo gioco che è Poppea, un piccolo capolavoro tutto italiano, che tra l'altro è uno dei giochi più venduti su PC dell'ultimo anno. Lo trovate su Steam e costa davvero una sciocchezza quanto un caffè o due. E insomma, ragazzi, questo piccolo S-Magic S1 è un mini PC che mi ha molto sorpreso, positivamente, sia al lato design, utilizzabilità, l'ho detto giusto, grazie al mini display personalizzabile integrato, grazie al case che può essere aperto in un istante per sostituire, ampliare RAM ed SSD, davvero tanta roba per un mini PC così economico, perché il prezzo è, secondo me, il suo più grande punto di forza. Al prezzo a cui lo metto spesso su Telegram, 200 euro, qualcosina in meno, qualcosina in più, secondo me è davvero il miglior mini PC che potete portarvi a casa oggi, a fine 2023 e probabilmente anche all'inizio 2024. Non si tratta di una macchina pensata per il gaming spinto, ma per uso Office, per lo svago, per lo studio, per giochini poco impegnativi, per foto di tocco e post-produzione molto, molto leggera, è davvero una macchina che consuma poco, vi fa risparmiare sulla bolletta, non è rumorosa, sentite? È acceso da un'ora per questo video e non fa praticamente rumore. Insomma, io la straconsiglio, anche perché la potete acquistare da Amazon tramite i miei link che vi lascio nel mio canale Telegram TechBestDeals. Non so a ripetermi come fare per entrare e trovarlo, vero? Vabbè, lo faccio un'ultima volta. Cliccate sulla descrizione del video, aprite il link TechBestDeals, cercate Esmagic S1 e lo troverete al suo prezzo più basso, insieme a migliaia di altre offerte scritte giornalmente da me. E questo è tutto ragazzi, spero di avervi fatto finalmente capire che non sono un bugiardo, ma vi dico realmente le cose come stanno. Ora però ditemi la vostra opinione su questo prodotto, lo trovate interessante oppure no avete dubbi o domande? Parliamo insieme qui sotto nei commenti. E se il video è stato di vostro interesse potete lasciare un like per supportarmi e condividerlo ai vostri amici. E ovviamente anche iscrivervi perché siamo alla soglia dei 100.000 iscritti. Grazie a tutti perché supportate il mio lavoro ogni giorno. Vi voglio bene amici, alla prossima, sempre qui su Addicts to Tech. Ciao belli. 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 Grazie.